Dottoressa Ciasullo, l'adesione dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Torino avrà, immagino, un riflesso anche sull'attività delle scuole del territorio? Certamente, l'intenzione da parte nostra di aderire a questo protocollo, anche in ottemperanza alle direttive del Ministero, è proprio anche nell'ottica di essere parte attiva nel miglioramento degli acquisti e della sostenibilità ambientale e di coinvolgere proprio in questa iniziativa anche tutto il mondo delle istituzioni scolastiche per cercare di diffondere il più possibile e cercare di costruire un futuro migliore anche per i nostri studenti.